Buonasera, benvenuti, grazie per essere con noi. Io sono Claudia Carizzaro, co-fondatrice e co-direttrice di Accrae Residency, il mio partner in Prime e in Life, mio marito è co-fondatore, migliatore e direttore di Accrae Residency e di là lo conoscerete dopo, salvatore Scalora. Vi diamo il benvenuto e per voi che alcuni di voi forse non sanno che cos'è Accrae Residency, Accrae Residency è un programma di residenza per artisti, scrittori, ballerini, musicisti e chef, pasticceri, che si svolge ogni anno a Parasola Credit in questo mese, il mese di settembre. Siamo un'organizzazione non profit, come sede amministrativa New York e centro operativo a Parasola Credit. Né io né Salvatore siamo di Parasolo, ma abbiamo scelto Parasolo perché ci ha affascinato, conquistato e ci è piaciuto il fatto che non è troppo grande, non è troppo piccola, non è troppo turistica, non è stata per fortuna ancora rovinata dal sviluppo edilizio e speriamo che rimanga così. Speriamo di portare, non vogliamo togliere niente a Parasolo, vogliamo aggiungere e quindi ogni anno portiamo sette artisti di talento che lavorano con un mese a Parasolo, lavorano con i loro progetti e li condividono col pubblico. Molte di voi eravate ieri al Comune, quindi avete visto alcuni dei lavori degli artisti, stasera altri artisti presenteranno il loro lavoro e abbiamo fatto anche una serata speciale al Museo dei Viaggiatori di Nervi che realizzano nel programma. Prima di tutto, prima di presentare gli artisti a tutti voi, vorrei ringraziare il Sindaco che ha lasciato per essere qui con noi stasera e l'assessore Paolo Sandor. Prego, venite, venite. Mi prevedeciare se potete dire da parole. Buonasera a tutti, con grande pece per te dico qualcosa, perché in qualche modo parlare di agli agriamore, oggi è facile. Due anni fa è diventato un pochino difficoltoso, anche perché, che cosa ne voglio dire con questo? Voglio dire che per le volte le cose ne nascono per caso, ma poi non c'è tanta casualità nelle cose. Le cose vuol dire che devono andare le persone. Mi segnalano, tutti conoscete Sebastiano Magliarone dell'Inte, io le dovere da Viscano perché mi dice guarda ci sarebbe un'occasione per farla solo, vediamo se possiamo organizzare qualcosa. Dico Sebastiano certo, con grande piacere facciamo qualcosa perché l'idea mi affascina, lui ci ha detto soltanto due parole, dobbiamo ospitare delle persone al Palazzolo. Nel momento in cui mi ha detto così mi dico, vabbè parliamone e vediamo un pochino come fare, perché Palazzolo in qualche modo tramite l'Intern? Perché sapete che l'Intern a Palazzolo viene un festival, il festival non c'entra nulla con la Greia Residenza, però in qualche modo non è altro che un'iniziativa tramite la Palazzolo che chiamiamo ospitalità, ospitalità in qualche modo, riceviamo delle scuole, studenti e insegnanti e da noi sostanzialmente queste persone, nel tempo, avremo anche il piacere di poterle fare per montate, quando a me non perdono un paio di sera. E in tutto questo sapete, non è una cosa troppo lunga, lo voglio dire perché è l'occasione per poter fare capire quali sono i programmi. Noi abbiamo una grande struttura che è il Congresso H, presso il quale stiamo andando a realizzare l'Intern 100 Bossi Letton, quindi questi 100 Bossi Letton che saranno disponibili già dal prossimo anno, speriamo, dal maggio, quindi per il prossimo festival, e questi 100 Bossi Letton, noi abbiamo in qualche modo da dire nella presunzione, Ludovia, lasciatemi questo in termine, di poter organizzare con l'Iv, e non solo con l'Iv, ma anche con Claudia e Salvatore e con altri che si ne propongono, questi nei momenti di inospitalità, tipo questo progetto, una agraina presidenza. Chiaramente l'osservo è solo nel pretesto, nel mezzo, nello strumento per poter organizzare, diciamo, questo tipo di iniziativa, perché è chiaro che poi dalla base di tutto c'è l'ospitalità della nostra comunità, c'è alcuna comunità che in qualche modo, seppur piccola, esprime diverse potenzialità, diciamo artistiche, produtturali, gastronomiche, quindi come d'Allen, questa è una comunità, tramite l'ospitalità, tramite l'osservo, tramite la struttura come questa, si apre nel suo piccolo, Allen e il mondo, si apre le diverse esperienze e i progetti come questi, come quelli di Agraina Residenza, si confrontano in quelle che sono effettivamente le potenzialità, in quelle che sono anche i diventi che dobbiamo andare a conoscere, a gestire, negli interessi, diciamo, di quella che è la vita stessa di questa comunità e di questo territorio. Io ho fatto una richiesta ben precisa agli artisti che quest'anno si sono soffermati e ci hanno notato la loro presenza a Palazzoli, li voglio incontrare prima che loro partano, perché da loro voglio sapere uno, due aspetti negativi che in qualche modo abbiamo nella nostra comunità, perché per un palazzolese, per un amministratore capire quali sono le negatività, dice ma che fanno, io sai, non li voglio sentire tanti altri, cioè da coloro che non conoscono la comunità, vengono in questa comunità, la vivono in un mese, vorrei capire secondo loro quali sono le cose che non fanno e in qualche modo confrontarmi, proprio per capire se queste negatività le possiamo superare con l'impegno di tutti e con l'obiettivo proprio di poter crescere, di poter crescere non solo dal punto di vista turistico, ma proprio di poter crescere dal punto di vista culturale, perché siamo contenti di averne delle potenzialità, questa potenzialità dobbiamo saperle gestire nell'interesse chiaramente di questo territorio. Quindi grazie a Claudia, grazie a Salvatore, è chiaro che questo è il secondo anno e io aspico che ci sia un futuro, magari un futuro, perché a questo punto non ci possa consentire di poter utilizzare una struttura che abbiamo sopra, con questo l'accato e quindi magari poter allargare gli orizzonti, per come un po' è caduto fuori, mi è sicuro, mi è semploranemente, magari non c'è nato, con il coinvolgimento delle università. Mi piacerebbe, in qualche modo, che riuscissimo a coinvolgere, tanto per l'università, ma parlo anche, potrebbero essere nelle belle scuole, ma d'oltre oceano, perché noi in qualche modo ogni giorno vogliamo lavorarci, con gli altri, vogliamo lavorarci e soprattutto speriamo di poterci lavorare nel strumento al meglio delle nostre potenzialità. Grazie, grazie sindaco. Grazie a tutti. 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 perché è una composizione di quattro elementi, quattro elementi con quattro elementi ed è totalmente ispirato alle quattro stagioni siciliani e ha come nome terra nata, perché il motivo già lo sapete perché terra nata, perché fondamentalmente con tutte le cose belle che accadono, con tutte le cose belle che ci sono nell'isola, con tutte le cose pelucche che ci sono nell'isola, ecco questo spazio, è proprio questo momento che ci fa identificare l'isola come una terra nata, perché c'è tutto e non c'è nulla. Ecco, il secondo è dedicato proprio, diciamo, totalmente a questa condizione, ma quando finirete, provate a fare una cosa, quando finirete di mangiare, pensate a, non a che tipo di spezie, a cosa abbiamo mangiato, ma pensate semplicemente a una cosa, pensate a cose che vi portano al cibo e a quello che avete appena mangiato, perché sono tutti, 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 tutti elementi che si trovano nella nostra terra, e sono semplicemente combinati in maniera diversa da quello che vi conseglie di essere abituati a mangiare. Ora, non avete però una prima, non perché ci tenevamo a tenermi fuori e a spiegarvi il motivo e il perché di tutto ciò. Quindi, secondo me, è meglio, si parla e si comunica, e tutti i testi sono iniziati a un po' più, un secondo me, un po' più, 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 un po' più. Grazie. 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 Grazie a tutti. Sì, grazie, buonasera a tutti, prima di tutto ringrazio a noi, Claudio e Salvatore, per tutto il lavoro che abbiamo fatto e si chiede se siamo stanchi, sì, stanchi ma felici. Ringrazio anche tutto il progetto di Palazzolo perché sono stati molto calurosi e l'hanno ospitato per tutto il mese di settembre. Soprattutto al Museo dei Viaggiatori perché Angela ha lavorato al museo tutti i giorni. E soprattutto anche i amici di Corle Abre che hanno ricevuto così calorosamente, che ho ospitato. Quando io ero chica, molte volte mi despertava per le noche e caminava alla mia nonna. Quando ero dormino spesso, mi alzavo e caminavo andavo verso la casa della mia nonna. Mi nonna stava sempre despierta e per questo si filtrava una piccina luce per la porta. La trovavo seduta sul lento alto con una scatola e dentro la scatola c'erano tutte le lettere dei parenti in Italia. E nonostante, in un parlato italiano, mi nonna mi leggeva le lettere, le leggevo le leggeva anche se, non si sentire dalle altre persone della casa. E prima di andare, mi diceva, ma Angela è statissita, eh? Angela non dire niente, statissita. Io non ho capito molto quello che mi aveva raccontato, ho mantenuto il segreto per sempre. E adesso, quando scrivo tutto questo, torna indietro. Palabras che a veces parecen desconocidas per me. Voci che parlano in una caja. E una luci che viene debaio della porta e mi illumina. E una luci che viene debaio tra la porta e mi illumina. Io ho lavorato a contare un po' su mia nonna. Ho lavorato due progetti durante la residenza. Un trabajo di scrittura di poesia con la esperienza che io tuve in questo luogo. Uno, un lavoro di poesia basato sull'esperienza Pantanova e Palazzola Greide. E un altro, un trabajo di poesia, scritta a partir delle cartas che mio abuelo italiano ha scritto da l'Argentina a sua famiglia in Italia e che io recupero dopo 50 anni. E l'altro progetto è sempre di così, basato sulle lettere che mio nonno ha scritto dall'Argentina a sua famiglia qui in Italia che ho trovato 50 anni dopo. Leo 12. Adesso leggo la prima. Dico una cosa, le poesie sono in spagnolo. Io non sono una traduzione e professionista di letteratura, quindi apprezzatele tutti in lingua originale. Poi magari vedremo anche la storia della poesia, ma non ci sarà traduzione nella poesia. E però dopo una breve storia in italiano è italiana. Le poesie sono solo in spagnolo. Teatro grievo en Arrae. Qui cada piedra canta la voce del mito e la modernità veloce sucumbe al silencio di tutte le parole che il drama pronuncio come se fossero cuchillo o flore. Una mariposa vuela bajo sobre il escenario, dalle vueltas e poi se posa sobre una de le gradi. Acá estamos. Un mondo incierto che si sostiene sobre la resistenza di un teatro, di sus piedras milenari e la delicadezza del vuelo di una mariposa. di una paloma inquieta un corazón in silencio. del aleteo. El aleteo se aleta en un instante, pero la paloma queda en distante del pecho y palpita por unos segundos, agitando la espesa capa de la mirada sobre el mundo. Mercados de Sicilia Mercados de Sicilia Hoy nos tomamos el día libre y vamos juntos a la playa. El azul del Mediterráneo y la frescura transparente del agua sobre los cuerpos acalorados. Gina ríe y nada en el mar y vuelve a reír. Su risa nos hace felices también a nosotros. Después alzamos los vasos y gritamos todos con cerveza y nos reímos. ¿Acaso este sea un tramo de nuestra propia felicidad que estaba esperándonos aquí en Acrae? En Acrae cae la tarde. En la plaza del Pópolo varios grupos de hombres recuerdan el pasado que tuvieron o discuten el presente que les toca. El cantar le entona sus paladas de amor y los niños corren hacia el futuro arriba de sus bicicletas. Las mujeres se observan, se arreglan los peinados, las parejas se besan. En el corso Vittorio Emanuele, el último sol que ahora nos encerece se desmayará en unos minutos sobre los techos de las casas. Sentada sobre los escalones de la iglesia, una mujer escribe en una pequeña libreta que la vida sigue por los bordes y rodea siempre la cintura de los pueblos. Y ahora voy a leer entonces el poema que escribí a partir de las cartas de mi nombre. Él quería regresar a Pelli, a Italia, para abrazar otra vez a su madre, reír otra vez con sus hermanos. Cuando volviera a Italia, pensaba él en la Argentina, cuando volviera a Italia, mientras regaba los tomates de su tinta, no avisaría a nadie. Quería que lo vieran avanzar, subiendo el camino de montaña que lleva a la casa. Es empinada esa subida, pero él se detendría cada tanto para recuperar la respiración y mirar las montañas. Llegaría a Pelli por la tarde. Tal vez su madre estuviera juntando unos hongos o un poco de romero para las papas. Tal vez sus hermanos hubiesen llevado recién de trabajar la tierra y ahora estuvieran mojándose la cabeza transpirada con un poco de agua fresca o limpiando las herramientas para volver a usarlas al día siguiente. Él llegaría a Italia sin avisar que todo fuera como una aparición, quería. ¿Quién lo descubriría antes? ¿Quién sería el primero en ver una mancha que se mueve en el camino y luego un hombre que avanza hacia la casa y avisa a los otros? Todos se interrumpen y dejan lo que están haciendo y dan unos pasos lentos hacia el hombre porque todos quieren restar la distancia que los separa. pero avanzan preguntándose si es verdad, si es él, si es el cuerpo que asciende por el camino de la montaña, si ese hombre, ese él, está volviendo. En la Argentina, por las tardes, mientras mi abuelo regaba los tomates y pensaba estas cosas, se ponía triste al mismo tiempo que se veía a sí mismo feliz ascendiendo por el camino de regreso. como si la felicidad y la tristeza pudieran ser una misma cosa, pudieran desdoblarse y permanecer una mientras la otra se aleja siempre buscando los abrazos que quedaron en Italia. muchas gracias. Gracias. La ricerca del lenguaje y al mismo tiempo y al mismo tiempo, un modo que se le ha perdido la palabra y al mismo tiempo, ¿no es una palabra? ¿no es una palabra? ¿es una palabra? ¿es una palabra? ¿es una ispiración? ¿es una distancia que no? ¿es una palabra? 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 ¿es una palabra rivolta a Dios ¿es una palabra? ¿es una palabra? ¿es una palabra es una palabra, ¿es una palabra, ¿es una palabra? ¿es una palabra cremos per il futuro, in una lingua non sua. Le implicazioni erano dette l'italiano, le preghiere in spagnolo. Forse cercava nuovi discorsi del suo vocabulario e così facendo si allontanava dalle parole che aveva già stato nel passato, per assenza interdita. Un nuovo accento per una nuova vita che mia nonna sperava fosse migliore? Era per caso una maniera attraverso una nuova sintassi di oltrepassare la soglia verso nuovi orizzonti? Forse pensava che una semantica differente gli avrebbe portato finalmente la felicità. Forse mia nonna pensava che pregare in spagnolo significasse esistere nella lingua degli altri e perciò essere accettata da loro. O forse era un modo per sentirsi meno straniera. Forse ciò che le permetteva di dimenticare, almeno in quei discorsi così sentiti, la stranezza del territorio in quale era confinata. Associo questa memoria della mia infanzia a due assi importanti della mia vita, la scrittura e l'insegnamento. Sono pronta a difendere questa teoria empaticamente. Cos'altro può essere importante se non la costruzione di un futuro diverso? Una scuola attraversata da nuovi discorsi, capace di offrire un nuovo significato alle parole e di dare ossigeno alle affermazioni che ci costruiscono. Questa parola raggiungerebbe il più importante obiettivo, la pronuncia di una parola. Alcuni pomeriggi, quando era troppo caldo per stare dentro la stanza, mia nonna mi portava al canale di irrigazione. Dopo mezzogiorno andavamo giù per la strada, camminando sotto l'ombra degli alberi che costeggiavano la strada. Non era solo per la freschezza dell'acqua che mi piaceva andare al canale. Nei pomeriggi passati lì, il rumore del vento sull'acqua o tra i rami inflati di chioppi, era esattamente come il bisbiglio delle parole che alleggiavano nella bocca di mia nonna. Grazie. 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 Grazie a voi, Adesso vi vorrei presentare Gina Eishma. Gina è una compositrice, musicista, e cantante. C'è una lunga lista di strumenti musicali che suona, principalmente canta e suona il piano, anche la fisarmonica, il sassofono, tante sue cose, questa sera l'oculele, l'oculele è di direttante, la cosa interessante di questa sera, adesso capire il titolo della serata, è che Gina si è fatta costruire una mandola, uno strumento, altrimenti, magari Gina ci dice, per esempio, quanto tempo è un mandolino, è stato commissionato a Gina di interpretare via rain, di scrivere un arrangement su Monteverdi che si è basato sulla mandola, e l'ha portato a Vieto a giugno. E noi abbiamo chiesto perché non portiamo la mandola anche in Sicilia, e siamo stati molto felici, hanno un strumento che mi sono bellissimo, e quindi abbiamo dedicato il nome della serata e il nome di pasto a appunto questo strumento così particolare. Gina? Sì. Buonasera. Grazie. Allora, dice Gina, c'è stato già molte parole, tante parole, quindi vorrebbe dire poco, ma c'è un minimo che lei si sente qui a dire. Sì. 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 Allora, un'altra cosa che ho fatto e tutti i giorni sono andata in quella che chiama una piccola cella lunastico, ovvero un piccolo appartamento messoci a disposizione da Federico Pizzo, che vogliamo ringraziare dove abbiamo posizionato questo pianoforte dove Gina andava tutti i giorni a suonare e in questo appartamento non ha finestre intorno ha un piccolo lucernaio dal quale entrava la luce che andava direttamente sul muro di fronte al pianoforte e la luce che già va. e il terzo progetto per la residenza d'Akai è di conoscere la mandorla che ho suonato la mattina e la sera sul terrazzo del mio appartamento mentre ascoltavo gli incendi l'altra cosa che ho dimenticato di tradurre è che quando era un trattamento olimpiano la sua musica si alternava alle campane delle chiese la maggior parte del lavoro che ha fatto qui a Parasola Felite non lo può ancora condividere con voi perché non è finito la maggior parte del lavoro che ho scritto per la manuola suonerà con la mandorla un pezzo che è scritto qui proprio per la sola crede ma prima di suonare un pezzo con la mandorla vuole cantare una canzone sconsese che è dedicata a Marinai e la dedica a Claudio Salvatore e devo immaginare che sono seduta sulle ginocchia di Salvatore in un bar che vuole che facciamo un brinco suonare un pezzo con la mandorla suonare un pezzo con la mandorla so here's a health to the wee lass that we love so well for style and for beauty there's none can excel she smiles on his countenance as she sits on his knee sure there's no one on earth is as happy as he so here's a health to the company and one to our last let's drink and be merry all out of one glass let's drink and be merry all grief to refrain far we may and might never all be here again my ship life's an anthem it's ready to dock I wish her safe landing without any shock and if ever I meet thee by land or by sea sure I'll always remember your kindness to me some day the question is I know I know is that what I mean yeah is this muscling I want to sing you a song that that was Scottish I want to sing you an English song that my parents used to sing to me when I was a child it's I was going to sing you a song about October because next week it's October already but it's very sad so I thought I'd skip it and sing one up in May about springtime about a young lady and a soldier allora volevo cantarmi una canzone in sconsese che parla di ottobre ma una canzone un po' triste quindi anche se la settimana prossima è ottobre volevo cantare questa canzone ho cambiato idea che ha dato una canzone su un omaggio parla di una donna e di un soldato one morning one morning in May I spied a fair girl a maiden their way and one was a maiden so sweet and so fair the other a soldier a brave volunteer good morning good morning good morning to thee and where are you going my pretty lake well I'm going I'm walking because it is spring to see waters fly and hear night and hear sing well they hadn't been why but a minute or two when out of his knapsack a fiddle he drew and the music he played made the valleys all ring it was sweeter by far than when night and he'll sing and sing and he'll sing and hear oh remain remain and it is time to be born oh no pretty soldier play just one tune more for my brother will listen to the touch of your strength and to see waters fly or in night and he'll sing oh pretty soldier pretty soldier will you marry me oh no pretty man that never would be for I've a wife in old London and babies twice three two wives and the army will be too much for me but I'll go back to London and I'll stay there a year and often I'll think of you my dear and there I return it will be in the spring to see waters fly and dear night and hear sing to see waters fly and hear my collections sing you 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 한번 Grazie. I can't share with you something that I've written while you've been here. It's about the passage of a day in Han Solo. First came the music, then came the melody, and finally came the melody. Day is slowly breaking. The light is getting stronger. The sky turns blue through the open window. The birds start their morning singing from rooftop to rooftop. And the curtain swells, starts to breathe in and out. Here it comes, the incandescent morning. Too late, the warning. It's time to pull down the line. Shut up the line. Hiding from the heat of the sun. It's time to pull down the line. The sky turns blue through the sun. Sous-titrage ST' 501 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 dell'Italia. E' una canzone che ha scritto tre anni fa. Buonasera, signori e benvenuti al 21st century Santana. As the world plunges full steam ahead towards certain disasters, with bad news surrounding us on all sides like icebergs, it seems that there's nothing anyone could rather do than rearrange the deck chairs on Titanic. We are always rearranging the deck chairs so that we No, no, no No, 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 no Oh, there it is, good time for you It's a good time, all of a sudden It's so important to have the chairs in the right place Chatt llamas of Ozzie Gave me a catch up for the breeze I want a thousand, I fit the sound of the breeze Cute machine, that's not me Shall we go, Bozy? Where do I count? I think this ship is sinking We are always rearranging the lecture So that we will always have one to sit on But there is a fun thing What a fun place of one's worth We don't care At least we all care Thank you Good night Un ringraziamento particolare alla cantina Hotel Polleagri che ha messo a disposizione la sala La persona ha messo il cuore, l'affetto, ci ha porto con un profondo sentimento Grazie particolare anche Antonella Nizza e Francesca Piggia di Cantano, ci ospita l'Università dei Viaggiatori dove gli artisti hanno lavorato, esposto, cantato, suonato Ringraziamo anche Salvo Pellicione, come sei, ecco di qua, che ogni volta che abbiamo un problema ci salva e anche che ci sarà video, non so, salvo salvo E anche documentando la residenza con un gran piacere Grazie a tutti 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 Adesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti